In Italia è previsto lo screening neonatale per diverse patologie rare, una quarantina sul territorio nazionale, anche se non tutte le regioni sono allo stesso livello di sviluppo della problematica. Oggi se ne è parlato a Roma per evidenziare i problemi comuni nello screening neonatale, focalizzandosi soprattutto a due patologie, l'ipofosfatemia X-Linget e la malattia rare da accumulo lisosomiale. Noi abbiamo approfondito questo argomento con la vicepresidente di AISME, Manuela Vaccarotto. Allora, oggi appunto vi siete riuniti per parlare di screening neonatale, soprattutto riferito a delle patologie che non sono, patologie ereditarie rare, che non sono ancora inserite nello screening neonatale. Partiamo col parlare della ipofosfatemia X-Linget. Quali sono le, cos'è che è questa patologia per voi, anche perché siete dall'associazione che la rappresenta? È una malattia, diciamo, non riconoscibile purtroppo attraverso lo screening neonatale esteso. Non è possibile diagnosticarla con quella metodica. È poco conosciuta e il sospetto diagnostico deve essere stimolato, incrementato. Il medico, una volta pensato che il bambino può avere quella determinata patologia, deve comunque fare una diagnosi differenziale con altre malattie. È una malattia molto invalidante. I bambini vengono trattati, quelli riconosciuti in tempo utile, insomma vengono trattati fin dall'inizio, solamente, attualmente, solo con supplementi di fosforo, calcio e vitamina D, che non sempre riescono a contenere la sintomatologia della patologia. E quindi i bambini purtroppo vanno incontro a severe disabilità, come l'inarcamento delle gambine, perché poi quando cominciano a camminare c'è il carico sulle gambe, quindi questo può provocare appunto la difformità ossea, problemi dentali molto, molto, molto accentuati. Una cosa molto negativa è l'assunzione di questa terapia, che deve essere assunta dalle 5 alle 6 volte al giorno, ingerendo anche un'enorme quantità di acqua, di liquidi, perché questi supplementi sono anche tossici sotto un certo punto di vista e quindi per aiutare l'organismo a eliminare la tossicità c'è bisogno di un'idratazione maggiore. Quindi il paziente è, diciamo, costretto a non allontanarsi più di tanto da casa o deve avere sempre sott'occhio dove potersi appoggiare, ovviamente, per... c'è bisogno del bagno, in poche parole, ecco. Ecco, le malattie metaboliche ereditarie sono tante, quelle rare, ovviamente. Quali sono gli ultimi dati, gli ultimi aggiornamenti? Allora, invece le malattie, parliamo di malattie del metabolismo, gli ultimi dati sono di recente, appunto, abbiamo saputo di recente, nel grande calderone delle malattie rare, circa più di 9.000 malattie, quelle metaboliche raggiungono oltre le mille patologie. Ovviamente vengono suddivise in varie... si distinguono poi in vari gruppi, più o meno patologie che sono più o meno gravi, e quindi, diciamo, quelle screenabili, che è il tema di oggi, sono oltre 40 malattie. In Italia abbiamo la fortuna di avere avuto, nel 2016, abbiamo collaborato anche noi come associazione, ma già dal 2013, la redazione di un disegno di legge, che poi nel 2016 è diventato legge. Qui, in questo disegno di legge, è, diciamo, previsto che tutte le regioni, obbligatoriamente attivino nel proprio territorio uno screening neonatale alla nascita, che viene fatto tra la seconda e la terza giornata di vita, attraverso una semplice punturina del tallone, quindi qualche goccia di sangue, in pratica, e per un numero di patologie molto importante, arriviamo fino a 40 malattie metaboliche. Prego. Ecco, appunto, si è detto fino a 40 malattie metaboliche. In realtà abbiamo visto oggi, dalle varie presentazioni, che c'è un po' una diffusione a macchia di leopardo in Italia, cosa che magari è anche normale tra le varie regioni, che ci siano delle differenze. Quali sono però le complessità maggiori che vanno superate, secondo te? Allora, innanzitutto, stiamo aiutando in questo senso, uniformare il test in tutte le regioni. Attualmente mancano ancora l'appello tra le regioni, l'Abruzzo, la Basilicata e la Calabria, ma abbiamo lavorato fianco a fianco in questi ultimi due mesi. Le regioni con i rappresentanti regionali sono molto disponibili e stanno facendo di tutto per attivare nel proprio territorio e per mettere lo screening a disposizione come diritto di salute dei propri neonati che nascono nelle zone. La particolarità è adesso estendere il pannello di screening ad altre patologie, in particolar modo le malattie lisossomiali, patologie che sono molto gravi se non diagnosticate in tempo e per le quali esistono già delle terapie e di conseguenza, anche come associazione rappresentata di pazienti, da sempre spingiamo verso questa soluzione, diciamo, per questi neonati, prese attraverso lo screening, la qualità di vita dei neonati e trattati ovviamente che vengono trattati immediatamente cambia decisamente, quindi procura al bambino una buona qualità di vita, il bambino può avere una buona qualità di vita. Ecco, alla giornata di oggi erano presenti anche le istituzioni e tra l'altro è venuto fuori un messaggio molto importante dalla senatrice Paola Taverna. Cos'è che vi ha annunciato, ci ha annunciato? Bene, è la senatrice che ha preso da sempre a cuore questo importante argomento, questa tematica. Ci ha dichiarato oggi l'impegno del suo gruppo a livello europeo di portare anche in Europa questa proposta di allargamento dei panel di screening in tutti gli Stati membri. Questa è una richiesta che anche da parte della nostra associazione Aisme Onlus è partita da un po' di tempo fa e ora si sta concretizzando e anche noi come associazioni saremo al fianco appunto della politica e cercheremo di spingere affinché questo test si possa avere l'allargamento appunto in tutti gli Stati membri a livello europeo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.